cari allievi e graditi ospiti oggi intermediate 7 groove numero 96 in open handed playing tratto dal libro groove essential 2 di Tommy Igo stampate sempre il pdf allegato al video per seguire meglio la lezione a iscriviti al canale and not and Grazie a tutti Nella prima combinazione la mano sinistra sull'i-hat suonerà questo ostinato in sedicesimi in tre gruppi 2 di 4 e 1 di 6 in triplet fill La mano destra suonerà sullo snare e il piede destro sul bass drum Nella seconda combinazione sarà la mano destra sul ride a suonare l'ostinato in sedicesimi in tre gruppi Mentre la mano sinistra si sposterà sullo snare Il bass drum sarà suonato ancora dal piede destro Nella terza combinazione la mano destra suonerà ancora l'ostinato in sedicesimi Ma scendendo sull'i-hat che ho a destra La mano sinistra starà ancora sullo snare e si sposterà il piede sinistro sul bass drum che ho a sinistra Nell'ultima combinazione sarà di nuovo la mano sinistra a suonare l'ostinato in sedicesimi Ma sul ride che ho a sinistra La mano destra tornerà sullo snare e il bass drum sarà suonato ancora dal piede sinistro La mano destra tornerà sullo snare e il bass drum sarà suonare l'ostinato in sedicesimi in tre gruppi Ma sul ride che ho a sinistra a suonare l'ostinato in sediceimi in tre gruppi Ma sul ride che ho a destra per suonare correttamente questo nuovo groove in 7 conviene partire dall'ostinato in sedicesimi raggruppandolo nei tre gruppi proposti contando 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 successivamente aggiungeremo lo snare e infine il bass drum il tutto naturalmente con molta pazienza tanta pratica e precisione aiutandosi col metronomo vi auguro perciò un buon lavoro e un buon divertimento alla prossima